Oh, chiedo scusa, non era mai successo, è sparito la linea, ho visto che è partito tutto, chiedo scusa amici, non era mai successo, è la prima volta che mi sono trovato che è mancata la linea. E riprendiamo da dove abbiamo lasciato, quello che volevo dire è che sicuramente tu dici ma a un certo punto vado a vedere la partita di pallone, è inerente la lettera, non so adesso l'interruzione quando è avvenuta e come è avvenuta, ma penso che sia poco. Facciamo un riassunto veloce, un signore mi ha scritto che la moglie l'ha minacciato di lasciarlo perché va a vedere la partita di pallone, ma sicuramente è perché ha esagerato nella partita di pallone. Quindi l'esagerazione ha creato problemi. Questa esagerazione purtroppo se ne paga le conseguenze. Adesso io dico, può sembrare sciocco, però una persona quando si sente trascurata reagisce come può. E il fatto che tu hai fatto l'abbonamento al calcio, nonostante che avevi promesso che non l'avresti più fatto, che non è tanto il venir meno alla promessa o meno, è la presa come si suol dire per i fondelli. Lei si potrebbe sentire presa per i fondelli e quindi effettivamente arrivare poi a situazioni drastiche. Che tu sia in difficoltà va bene, però anche essere così, farle così proprio o prima o dopo si rischia di arrivarci. Adesso la mail me l'hai mandata tre giorni fa, quindi praticamente sono otto, nove le giornate di campionato. Ce ne sarà ancora una ventina, non lo so quante sono, perché io non sono un appassionato di calcio e chiedo scusa. Però potrebbero scoprirti. Magari se ce la fai a non farti scoprire per non buttare all'aria l'abbonamento o com'altro, vedi cosa puoi fare. Qualche amico mi ha detto, io non ti scrivo più. E gli dico scusa perché? Perché tu non mi dici cosa devo fare. Tu parli, porti degli esempi o meno, ma dovresti essere tu a darmi una risposta, un suggerimento a cosa devo fare. No, non lo posso fare io, io vi porto degli esempi, sta da voi poi decidere cosa fare, ma vi porto degli esempi che io ho toccato con mano personalmente, in prima persona. D'accordo? È questo che dovete riuscire a far passare. Io ti porto un esempio di una persona che ha fatto una cosa simile alla tua e veramente ha rischiato il divorzio. E sto signore è un tecnico da cantieri. Allora io all'esame della leva mi hanno misurato 1,81, lui mi dava una spanna, quindi 7-8 cm se non di più. Quindi quasi sull'1,90, un uom pezzo di Marco Antonio con un paio di spalle enormi, no, sembrava un armadio quattro stagioni. A un certo punto la moglie decide che lui è troppo in carne, come si suol dire, e con lui decidono di fare una dieta. A questa decisione cosa si passa all'attacco, che significa sono andati da un esperto, anzi era una dottoressa la quale gli ha dato una dieta da poter ridurre tutti i carboidrati, gli ha dato quelle calorie che dovevano servire per lui per quel periodo. Più che darla a lui, la dieta l'ha data alla moglie da fare eseguire. Questa donna inizia a spentolare, una volta, due, tre, quattro, cinque, sei, bene, e va avanti. Passa un mese, passa due, passa tre, passa quattro, praticamente mi sembra dopo cinque o sei mesi, adesso esattamente i periodi non li ricordo, ma mese più, mese meno, ritornano da questa dottoressa e non aveva perso un chilo, non aveva perso niente. Lei dice, non è possibile, guardi che da mangiare ne faccio io, gli faccio questo, 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 spentolo in tutte le maniere, ma lui, dolce, remissivo, seguiva la moglie per tutto. Cosa succede? Che questa donna deve andare a un funerale, va con una vicina o comunque, il ritorno, per una serie di circostanze, perché avevano chiuduto una strada, perché c'è stato, esattamente non l'ho mai capito il perché, poi lei si è trovata in quel bar, si trova nel bar dove il marito arriva, prima di andare a casa a pranzo, la barista gli aveva fatto due focaccine farcite, questa, come arriva, lui vede le due focaccine farcite che sono le sue, la moglie era sulla sinistra, non l'ha potuta vedere, azzanna queste focaccine iniziano e la moglie gli urla, ma cosa fai? pensate, con la focaccine in bocca, questo povero diavolo stava mangiando la sua focaccina, bene, voi non avete idea di che guerra è uscito fuori, alla fine quest'uomo era arrivato da me, quasi in lacrime, non in lacrime, ma quasi in lacrime, fa ma porca mi, e faccio sì, ma tu devi capire che sta donna, si è trovata, per sette, otto mesi, otto, sei, quel che sono, andare a bisticciare con la dietologa che tu non sei dimagrito, tu pensa, questa donna si è sentita presa in giro, e quindi ti ha bastonato compagnia bella, comunque, caro amico, credimi, ce n'è andato del bello, c'è andato di tutto e di più per poter riuscire, ti dico, riuscire ad arrivare a questo. Quindi, io mi raccomando, cerca di uscirne fuori, ma se, piuttosto diglielo, perché l'essere preso in giro diventiamo tutti nervosi, vedi tu cosa puoi fare, da una stupidaggine può nascere una cosa realmente pesante, quindi mi raccomando che non si ripeta, stai attento, perché se tua moglie ti facesse questo, lo facesse a te, tu mi staresti. Quindi, è una cosa che è molto pericolosa, d'accordo? Bene, passiamo ad altro. Sono single dal tempo, e ho superato da poco la cinquantina, da circa un anno ho la relazione affettiva con un ragazzo molto più giovane di me, so perfettamente che ho un legame senza futuro, prima o poi lui conoscerà una coetanea che lo farà innamorato e mi lascerà. Con lui sono stata molto chiara, gli ho detto che quando capiterà non dovrà più cercarmi in alcuna maniera ed io capirò. Le mie amiche non approvano questa relazione e continuano a criticarmi, ma interrompere questa storia mi costerebbe moltissimo. Il mio pensiero qual è? sei maggiorenne e vaccinata. Cosa vuoi? Io non do benedizione a nessuno. Dirti che non è una cosa molto... che il film che ti puoi fare non è molto funzionante lo sai anche tu che il film che ti fai non è giusto lo sai anche tu quindi non te lo devo dire io anzi non ti fai film cioè cosa farò da grande con questo ragazzo? che dire cosa posso dirti? Nulla ti ringrazio di avermi scritto però non ti dico nulla qualche ad uno potrebbe dire eh beh ma è amore se tu parti già che non ti fai film di amore c'è poco perché quando è che parti e conosci una persona e nella nostra testa ci facciamo il nostro film cioè voglio vivere assieme voglio vivere poi cammin facendo le difficoltà si creano arrivano non ci si riesce va bene cammin facendo però non non quando è che lo fai parti già col piede sbagliato no non va bene cara amica io mi è arrivata la MEI la leggo perché è giusto però non so cosa dirti vedi tu sei maggiore né vaccinata sono un po' preoccupata e avrei bisogno di un suo consiglio frequento diversi mesi un uomo che ha moltissimi pregi e di cui credo di poter innamorarmi follemente ma ha una particolarità che mi lascia perplessa è un tipo molto attento alla pulizia e all'igiene in generale ma in particolare quando si tratta di stare insieme non succede nulla finché non siamo passati entrambi sotto la doccia all'inizio della casa la cosa la cosa non mi disturbava ma toglie molta spontaneità e naturalezza e mi sembra anche una certa mancanza di rispetto nei miei confronti ho l'impressione che sia un uomo un po' troppo rigido lei che ne pensa? allora sono un verrente sostenitore degli equilibri il troppo stroppia adesso lavarsi mantenere la casa in ordine avere la scrivania in ordine poi io che sono disordinato via pressa poco va bene sull'igiene niente da dire io sono un fervente sostenitore di una doccia al giorno in estate possibilmente due una con sapone e l'altra con solo acqua però quando si passa gli eccessi o meno li diventano eccessi gli eccessi mi 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 disturbano un pelino perché hai detto bene tu si può capitare che se non hai proprio fatto la doccia un abbraccio tante piccole cose anche un gioco inizi giocando poi magari finisci magari sotto la doccia se poi la doccia è capiente anche in due sotto la doccia ma diventa un gioco se è eccessivo allora e da come me ne stai parlando la cosa mi sembra un poco eccessiva ed essere eccessivi sull'eccessivo io patisco soffro non so come dirtilo il troppo stroppia quindi vedi un po' cosa puoi fare di questo rapporto come puoi trovo un equilibrio ma quando hanno queste problematiche bello perché poi diventa una problematica non è soltanto il troppo cosa posso dirti di più se fossimo a quattro occhi magari ti dico anche qualcosa di più ma non so sicuramente non ci ascolta nessuno ma se ci ascoltano io più di tanto non posso uscire cerca di di leggere nel mio viso nelle mie parole quello che ti voglio trasferire è troppo quindi quando sono così perché poi hanno la cura di mettere a posto le matite che siano perfette tutti sono perfettini diventa un grosso problema poi conviverci perché non è tanto gli inizi è il convivere su questo tipo di cultura capito cara amica frequento un ragazzo da oltre un anno e mezzo l'ho presentato ai miei da diversi mesi e ormai a casa mia è praticamente di casa invece lui non mi ha ancora presentato i suoi non li ho mai visti quando ne parliamo lui sostiene che non è ancora pronto per metterli in mezzo il fatto è che la sua precedente ragazza ha addirittura trascorso il Natale con loro non so cosa pensare beh a sto punto chiedo scusa caro amica io a sto punto ne discuterei tranquillamente ma chiaramente cioè boh o dentro o fuori no 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 non sono pronti non qui no 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 visto e considerato deve essere una cosa reciproca e beh allora se tu se lui è a casa tua è di casa e non conosci i suoi non ha senso tu lo prendi con calma e gli dici caro ragazzo cosa vuoi fare da grande ma e lui ti dirà ma qui là mille scuse no adesso le scuse sono finite è così o o se no che senso ha perché per arrivare che lui è a casa tua c'è di casa e ormai la cosa è già avviata da un pezzo e quindi è giusto che anche lui si assuma determinate responsabilità e non tergiversare non aspettare troppo anzi non aspettare più nulla prendi il toro per le corna e affrontalo con determinazione inizia con tranquillamente con molta però che lui si renda conto che sei determinata ad arrivare in fondo chiaro determinata arrivare in fondo tutto lì il trucco è quello tu devi far capire che sei determinata ad arrivare in fondo perché se lasci degli spiragli lui ne approfitta invece la discussione deve essere serena seria tutto quello che vuoi ma tu devi avere una determinazione che normalmente ha solo la donna l'uomo non sempre è determinato ma tu donna sai cosa voglio dire quindi tu decidi che è ora di metterci in discussione e che lui si metta in discussione perché a sto punto non ha più senso in questo caso vedete che ogni tanto anch'io do anche il consiglio come lo vedo ma perché qui non c'è altro quindi in questo caso prendi il toro per le corna mi hai capito bene sono sposata da sette anni e mio marito mi ha confessato da poco di aver avuto un figlio da una precedente relazione puoi immaginare quanto la cosa mi abbia sconvolta se non che lui mi ha rivelato tutto per un motivo preciso la madre di questo ragazzino che ora ha quasi 14 anni è in gravi difficoltà economiche ed ha chiesto a lui di prendere con sé il figlio abbiamo due bambini ed un'attività che ci occupa a tempo pieno il problema è davvero enorme e lui ha lasciato a me la decisione non so davvero cosa fare io in questo caso cara amica ti posso portare un paio di esempi che sono calzanti alle due soluzioni sono sempre due soluzioni o dentro o fuori come si suol dire una che è quella che prediligo è no ti racconto un episodio anni fa si era verificato che lui non precedente ma durante il matrimonio avesse avuto una relazione con un'altra donna ed è nato un bambino questo bambino dalla nascita passa un mese passa due passa tre alla fine la mamma chiede soccorso perché era non dico indigente ma aveva bisogno di aiuto lui non sa cosa fare prende la moglie si libera di tutto quel giorno prende la moglie e chiede alla moglie di poter dialogare ma rimanere praticamente ha isolato tutta la casa spento telefoni staccato il telefono di casa cioè praticamente ha fatto questo e ha messo al corrente la moglie dicendo che ha un figlio conscio che poteva essere buttato fuori casa questa donna ha incassato ma incassato alla grande è rimasta lì perplessa per un po' di tempo da quanto mi consta si è stata perplessa per un giorno o due non di più dopodiché gli ha imposto al padre di dargli il nome perché lei ha detto che quel bambino non era colpa sua se non aveva il cognome del padre ma del padre che non era stato uomo e mi è rimasto impresso proprio anche per questa terminologia che aveva usato a un certo punto gli errori dei padri non devono ricadere sui figli lui ha sempre dialogando con la mamma ha trovato la formula gli ha dato il suo cognome addirittura quel bambino porta il cognome del padre e della madre i due cognomi con un nome solo è stata una cosa questa donna si è guadagnata non soltanto l'amore eterno di quest'uomo tutto il riconoscimento il di tutto e di più voi pensate che questo bambino adesso mi sembra che abbia pochi mesi dopo Giada Giada è la mia prima nipotina quindi adesso 12 anni a gennaio fa 12 anni e 11 anni e mezzo questo bambino mangia sia a casa della madre e sia a casa del padre la moglie cioè diciamo la madre putativa no quando arriva col bambino non so se lo sente più suo lei o il marito quindi il padre vero e proprio loro anche hanno due bambini però loro hanno dei figli più adulti cioè il bambino questo qua che ha 10-12 anni gli altri ne hanno il primo mi sembra che abbia 20-22 anni il secondo c'è 2-3 anni quindi c'è praticamente una decina d'anni ai figli di questi da vedere questa famiglia anzi cara amica se sei perplessa e sei in questo triangolo Torino Milano Genova perché non so da dove mi scrivi io quando l'ho letta sta lettera ho telefonato agli amici mi hanno detto falla venire qua che veda come siamo noi quindi la mail vedi tu mi ascolti non so se sei in diretta ma sicuramente vedrai la registrazione non so adesso questa registrazione come arriva perché si è staccata e non so se riusciremo a incollare le due parti perché si è staccata si è riattaccata non so come funzionerà comunque non lo so se mai l'attaccheremo in due pezzi non lo so come va a finire comunque sicuramente cercheremo di fare in maniera che tu possa avere la visione della registrazione sei invitata a vedere questa famiglia quando lui va a casa a mangiare cioè ma non è che telefona in anticipo tre giorni prima aggiungete un piatto e questa è una soluzione l'altra soluzione è che tu pianti il piede e dici no non se ne parla non qui non là non lena diventa una guerra che diventa poco sostenibile e tu mi hai scritto che voi avete un'organizzazione lavorativa cioè esattamente tu mi dici che avete un'attività che vi occupa a tempo a tempo pieno un'attività che può essere qualunque cosa dal bar a una macelleria e non me l'hai precisato quindi tu sai che se per disgrazia doveste arrivare alla rottura quando si ha delle attività in comune così si rischia poi di sfasciare realmente tutto non soltanto nella famiglia e se ho letto bene tra le righe non sono righe di una donna che vuole la rottura direi piuttosto un conforto ad andare avanti a non sentirti vulnerabili in questa situazione in questa situazione ti ci ha messo il tuo uomo ma tu puoi uscire nella grande e la grande sai com'è apri la casa anche a quel bambino aprila non sai che soddisfazione ti può dare perché come ti ho detto ti ho invitato da me proprio che tu possa arrivare a questa famiglia vedere questa famiglia è una famiglia spettacolare vedi tu che sai se sei in grado o meno se sei in questo raggio di territorio se sei distante ci vuole quattro ore cinque ore ma oddio se ne hai voglia di fare della strada problemi non ce n'è ma devi aver voglia tu di farla della strada sappi che se mi avverti per tempo questa famiglia ti fa trovare tutto quanto e niente è la moglie di lei cioè quella che si è presa praticamente ha adottato sto bambino portala qua che ci parlo io non ti preoccupare portala qua meglio di così cosa vuoi ok sono divorziato da alcuni anni ma il legame con la mia ex moglie non finirà mai perché a tenerci uniti c'è un motivo un nostro figlio a tenerci uniti c'è nostro figlio in questo periodo ha avuto dei problemi ed io gli sono stato particolarmente vicino per aiutarlo tutto questo è fonte di tensione di litigi con la mia compagna che si lamenta spesso del fatto che io dedico troppo a suo dire tempo ed energie a lui e non al nostro rapporto posso comprendere la gelosia nei confronti di una ex ma di un figlio allora caro amico tu sai che il termine gelosia significa possesso non è altro che possesso perché siamo gelosi perché vogliamo possesso vogliamo possedere sempre il nostro partner purtroppo chiedo scusa in questo possesso cosa succede che tu trascorrendo del tempo con tuo figlio lei dice che gli vai a togliere il tempo per lei e potrebbe anche servire ma dovresti metterti in una condizione ottimale fare in modo che sia lei che ti manda tuo figlio e mi spiego se tu sai metterla su un piedistallo metterla su una campana di vetro che si senta servita riverita brillante è certo che questo ovviamente comporta un dispendio di energie questo comporta un dispendio di tante cose e devi dedicarti a lei allora diventa la sua una concessione a quel punto è pronta a concederti di poter non so è lei che ti dice ma si vai da tuo figlio perché il momento che tu decidi vado dal mio figlio lei si sente meno mata capisci lei si sente non più presente non più la persona che ha tutto nelle mani che può decidere tutto quindi fatti apprezzare e poi ovviamente se tu sei valido ti sai far apprezzare sai metterti nelle condizioni ottimali come ho detto dato che noi maschietti siamo piuttosto a volte anche un po' fresconi no perché non curiamo piccole cose piccoli non ci rendiamo conto neanche se se la moglie è andata al parrucchiere è andata al parrucchiere e tu non lo noti quindi ecco che queste sono quelle piccole cose che creano problematiche poi all'interno della copia in modo particolare se tu dedichi del tempo a tuo figlio lei ovviamente ti rimbecca costantemente quotidianamente ma tu dedichi non pensi a me diventa un martello che ti penetra nella mente e ti crea delle grosse problematiche allora tu hai una situazione particolare perché non è una situazione ottimale perché quando è che uno è separato e vive con una e ha figlio con un'altra sono situazioni atipiche però devi trovare devi raddoppiare l'energia sia per poter vedere tuo figlio quando puoi sia di vivere tranquillamente con lei con questa donna perché se no diventa un inferno allora per evitare questo inferno cosa devi fare mettiti nelle condizioni ottimali di che lei si senta particolarmente messa e tenuta in considerazione che poi alla fine lei per prima dice ma no ma vai da tuo figlio ci mancherebbe ancora vai e diventa la tua patente quella di poter avere questo se no sarai in un conflitto totale è continuo perché purtroppo non puoi far diversamente hai capito? lo so che è difficile però è così chiedo scusa amici ma la gola sta iniziando da problemi tra parentesi stasera mi dà meno fastidio degli altri giorni ho iniziato a seguire la sua trasmissione e credo che possa aiutarmi sono sposato da quasi due anni con una donna bellissima che amo molto e la chiamo molto ho sempre apprezzato la sua attenzione e la sua cura verso se stessa il suo essere sempre ben vestita in ordine e curata senza però risultare mai volgare ma dopo il matrimonio si lascia ad andare gira per casa con una vecchia tutta quando usciamo da solo in compagnia non si trucca mai né si veste più con attenzione ha persino smesso di andare dal parrucchiere mi sembra che stia davvero esagerando io vorrei farglielo notare ma non so se sia il caso lei che ne pensa mi sembra di vedere il sottoscritto dopo dopo un paio di anni più o meno due o tre anni di matrimonio quando è arrivata a Susi la primogenità quando ho letto questa lettera il mio quadro mia moglie che non non si curava più guardava solo la bambina il lavoro cioè ovviamente lavorando lavorando aveva molto meno tempo di 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 aver cura poi con la bambina e bene che dire io per un po' io l'ho detto alle buone in buone maniere perché mi rincresceva che mia moglie andasse vestita come perché prima da ragazzi cioè a parte che noi in breve tempo ci siamo conosciuti ma era sempre carina cioè carina per me era bellissima comunque era carina e però con la nascita della Susi niente non andava più dal parrucchiere e poi oltretutto lavorava anche alle poste quindi era su uno sportello doveva avere anche la sua immagine non bene io ho iniziato una battaglia in questa maniera con mia moglie iniziando a dire ma scusa tu vai davanti uno sportello e non ti tieni più non ti sistemi più eh ma sì ma e sempre sta molto brava sul suo lavoro quindi era eh ma adesso non ho tempo eh ma siamo andati avanti per qualche mese guarda onestamente siamo andati per qualche mese un giorno dovevamo andare dai suoi genitori perché noi in quel periodo abitavamo ad Acqui e non c'era ancora la seconda no non c'era ancora la seconda perché io ho due figlie e quella domenica dovevamo andare dai miei suoceri dai miei suoceri dai miei suoceri persone meravigliose ecco ho puntato i piedi io non ti porto ho puntato i piedi abbiamo fatto una litigata ma una litigata ma una litigata alla fine gli ho fatto fare un l'ho fatta risistemare l'ho no la doccia l'ha sempre fatta però cioè la pulizia l'igiene però non non un minimo di trucco i capelli pettinati cioè minimo o gli ho fatto lavare i capelli gli ho fatto sistemare e non si va giù pensate che io avevo avevo mio suocero che aveva l'ossessione del mezzogiorno buonanima quel buonanima a mezzogiorno lui doveva mangiare quindi noi siamo arrivati al 35-40 non dico quell'uomo era nero però da quella volta l'ho spuntata e poi in un secondo tempo gli ho poi imposto ad andare dal parrucchiere tentativo simile è arrivato quando è arrivata la seconda bambina però ho tenuto duro e ho mantenuto diciamo la barra al centro e poi diventa una cosa normale che si mantenga in ordine o meno quindi ti ho fatto un esempio non parlando di altri ma parlo di me stesso è una cosa che è capitata anche a me quindi non è una cosa che sia così difficile che possa capitare nel rapporto di coppia però funziona in questa maniera ho conosciuto lui quasi un anno fa ed è praticamente stato un colpo di fulmine ci siamo innamorati subito lui è un militare di distanza nella mia città ed ho scoperto da qualche giorno che verrà trasferito molto lontano entro breve sono rimasta molto male quando l'ho saputo soprattutto perché so che i trasferimenti sono procedure molto lunghe e quindi lui doveva saperlo già da tempo e a me l'ha nascosto io non credo ai rapporti a distanza e sono rimasta molto deluso dal suo silenzio ma lo amo ancora cosa posso fare esiste una soluzione cosa puoi fare allora lui poteva dirtelo per tempo sono perfettamente d'accordo con te poteva dirtelo per tempo però devi anche mettere un'altra cosa in conto che non sapeva come tu lo apprendevi e quando noi siamo nei sentimenti e sui sentimenti ci vuole tutto devi capire che sui sentimenti non ci puoi comandare quei sentimenti diventi vulnerabile e allora ai sentimenti arrivano le paure la paura diventa terrore non te l'ha detto perché aveva paura che tu o lo lasciassi o creassi delle problematiche come si sta verificando sì tu ti sei sentita ci si sente dentro un blando tradimento blando molto blando perché lì questo è blando no e allora però cosa poteva dirti sto ragazzo quando in caserma ti dicono ragazzo è così pronti e vai pronto a muovere quando sei un militare di carriera è così e parla a uno che nell'ambiente militare ci ha fatto mezza vita quindi ecco perché cosa puoi fare cosa puoi fare io non so se hai un titolo di studio se se hai una professione particolare se hai la possibilità di seguirlo o meno questo sta un po' da te cosa vuoi fare o meno comunque sul fatto delle distanze io sono dell'idea che le distanze se sono fatte con possono per un certo periodo di tempo aiutare non soltanto comunque e chi non ti dice che a questo punto si possa regolarizzare un bel matrimonio inizia a ragionare un po' anche in questa maniera un bel matrimonio anche potrebbe essere una cosa ottimale magari lui non non è d'accordo vedi un po' seguirlo se hai un pezzo di lavoro ci sono diverse soluzioni se vale il vostro rapporto ci si batte fino in fondo si trova si vede dammi delle informazioni più pelo più complete perché ragazzi io ecco mi manca la palla di vetro per vedere sia nel futuro che nell'altro io non ho questa e neanche ho le carte di tarocchi da poter prevedere no non ho questo io vado a lume di naso con l'esperienza ascoltandovi tutti essendo in mezzo a voi ascoltando sempre tutti è lume di naso io troverei delle soluzioni del genere però se ho più informazioni ti potrei dare una risposta più completa ma se hai delle possibilità se la tua famiglia ti sostiene se vedi un pochino non è detto che tu debba chiudere in questa maniera questo rapporto perché il rapporto se è bello non deve essere chiuso perché lui a un certo punto è il suo lavoro quindi non quando l'hai conosciuto sapevi cosa faceva quindi sai anche a cosa andavi incontro ok bene io stasera ho ancora qualche lettera ma non vado oltre amici io spero di riuscire adesso cercheremo di contattare l'ingegnere che ci ha fatto tutto e magari ci darà le dritte come attaccare i due pezzi e se si riesce o meno comunque se non dovesse sappiate che abbiamo iniziato a parlare di un personaggio che viene da noi il 19 di novembre sperando che non succeda questo bailame qua perché sarebbe un disastro e non so si è staccato tutto quanto da solo e non è colpa nostra sappiate che il 19 di novembre ci sarà questo personaggio e tutti potremo chiedere qualcosa non in diretta perché non accenderemo il cellulare proprio perché lui possa fare quell'ora dare il massimo delle informazioni possibili d'accordo e con questo vi lascio la buonanotte ci vediamo lunedì prossimo e vi darò altre informazioni in merito d'accordo amici buonanotte e sogni d'oro grazie a tutti